Sono 21.190 i nuovi casi di covid registrati in tutta Italia, di cui 1.059 solo in Sicilia, secondo l'ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, sono 32 i nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2 in base all'ultimo aggiornamento comunicato dall'ASP Nissena. Nel dettaglio 15 sono di Gela, 12 di Caltanissetta, 3 di Mussomeli, 1 di Santa Caterina e 1 di Vallelunga. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di San Cataldo, mentre sono 122 le persone guarite dal covid, 30 di Caltanissetta, 27 di Gela, 13 di Mussomeli, 12 di San Cataldo, 11 di Butera, 4 di Niscemi, 4 di Serra di Falco, 3 di Mazzarino, 3 di Riesi, 3 di Sommatino, 2 di Milena, 2 di Montedoro, 2 di Resuttano, 2 di Santa Caterina, 2 di Vallelunga, 1 di Campofranco e 1 di Delia.